Il piccolo folletto Tim abitava in una casa fungo vicino alla bottega di un troll che creava oggetti con il legno. Tim adorava tutte quelle fantastiche creazioni e ogni volta che passava davanti alla bottega si incantava a osservare grandi coppe, sedie, vasi tutti fatti lavorando il legno. Un giorno il piccolo Tim andò da sua mamma la fata fragola e le disse mamma vorrei andare nella bottega del troll per imparare a creare oggetti con il legno. Mamma fata sorrise dolcemente e rispose certamente piccolo mio chiederemo al troll ad insegnarti l'arte di modellare il legno sappi però che è un tipo piuttosto burbero ci tieni davvero? Sì mamma ci tengo davvero molto. Qualche giorno dopo iniziò a frequentare la bottega del troll che immediatamente gli aveva detto io non ho tempo da perdere con te tu sei qui solo perché mi ha chiesto un favore la tua mamma per cui guarda e impara. Il folletto era così felice che quasi non si accorse di quanto il troll fosse stato burbero e scortese. Iniziò ad osservare ogni minimo gesto e ogni dettaglio del suo lavoro. Dopo qualche giorno mentre il troll stava creando una barchetta decise di imitare i suoi gesti e di realizzare anche lui la sua barchetta. Iniziò a lavorare un piccolo pezzo di legno e nonostante si impegnasse tantissimo non riuscì nemmeno a realizzare qualcosa che somigliasse lontanamente ad una barca. Il troll immediatamente disse lo vedi non sei capace. Il piccolo Tim non si perse d'animo con perseveranza continuò ad andare nella bottega del troll. Un giorno mentre il troll stava creando un bellissimo burattino il folletto decise di imitarlo e iniziò anche lui ad intagliare la testa del burattino. Aveva quasi terminato la sola testa dopo più di due ore ed era stremato non ce la faceva più. E il troll non vedi che non ci riesci lascia perdere. A questo punto fu davvero troppo per lui e andò a casa da mamma fata fragola piangendo disperatamente e dicendo che non sarebbe mai più andato nella bottega del troll. Mamma fata lo abbracciò forte e gli disse quando era una piccola fata non sapevo fare le magie e per quanto mi sforzassi proprio non riuscivo. Una piccola streghetta vicina di fungo ogni volta mi ripeteva non sei capace non farai mai degli incantesimi. Ero sconfortata e piangevo quando il grande albero che stava sopra la mia casa fungo mi chiese perché piangi. Perché non riesco a fare le magie risposi. Ah esclamò il grande albero tu sei la fatina che tutti i giorni cerca di farmi cadere tutte le foglie con la sua magia disse sorridendo. Ne ho viste tante fatine come te che hanno provato e riprovato a fare le loro magie. Poi improvvisamente un giorno ci riuscivano e non smettevano più. Continua con i tuoi tentativi piccola mia. E fu così che un mattino qualche giorno più tardi feci cadere tutte le foglie del grande albero con la magia la mia magia. Dissi scusa grande albero e lui sorridendo rispose non preoccuparti le foglie ricresceranno. E da allora feci tutte le magie del mondo. Il piccolo folletto sorridendo disse mamma domani tornerò alla bottega del troll. E così fece. Quel giorno il troll aveva iniziato a creare una bella sedia. Tim iniziò a imitarlo e questa volta la sedia riuscì a farla anche lui. Il troll non disse nulla e il folletto capì che era buon segno. Da quel giorno divenne sempre più bravo e molto presto ebbe una bottega tutta sua. Era felice e contento e molti anni dopo quando qualcuno gli chiedeva da chi avesse imparato a intagliare il legno così bene lui rispondeva mi hanno insegnato tutto un grande albero e la mia mamma.